Allora, volevo solo ringraziarvi per aver accettato questo nostro ciclo di seminari, ormai è arrivato al quarto anno, alla quarta serie, è la prima che facciamo in presenza, tutte le altre sono state fatte online e volevo giusto dire due parole per quanto riguarda questi cicli di seminari. Allora, noi trattiamo in questi seminari dei temi che sono nell'essere dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quindi sono tutti temi di alta tecnologia, non solo fisica delle particelle, c'è la fisica degli acceleratori, ci sono tutte le applicazioni tecnologiche che questi studi ci hanno poi portato a formulare come potrebbe essere la TAC, la PET, tutti questi esami diagnostici che ormai riempiono quasi tutti gli ospedali. Deve considerare che per esempio per quanto riguarda gli acceleratori, gli acceleratori delle particelle che abbiamo pensato noi di realizzare tantissimi anni fa, poi oggi sono ovunque praticamente, nelle industrie, negli ospedali, nei centri di diagnostica medica, eccetera. E questo è solo per dire. Quindi la nostra intenzione era quella di aprirci a voi, portare nella scuola, nelle varie classi, il nostro operato con parole semplici, speriamo che siano fruibili per tutti, e per darvi una panoramica di quello che è il mondo della scienza, va bene? Noi siamo una nicchia, diciamo che la fisica delle particelle è una piccola parte del mondo della scienza, però noi portiamo in alto il nome della scienza, va bene? Ok, allora cedo la parola all'amica Paola, già dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica di Parade, laboratori di Frascati, che ci parlerà di questa quintessenza dell'universo, e quindi le auguriamo, insomma, un bocca al lupo, ok? Ma certo. Grazie. Mi aggancio a quello che giustamente diceva il professore Schioppa, prima di cedere definitivamente la parola a Paola, ricordandovi che questo è un momento di grandissima importanza, qui la stragrande maggioranza dei ragazzi sono di terza liceo, quindi sono, come dire, stragrande maggioranza significa che ci sono anche dei ragazzi di quinta, ci mancherebbe altro. Però, ecco, i ragazzi di terza liceo sono quelli che in qualche misura attendono di essere guidati, e per voi è praticamente la prima volta che avete l'opportunità di poter incontrare dei ricercatori, degli scienziati, degli uomini e delle donne che lavorano nell'ambito della scienza a 360 gradi, come suol dirsi. Quindi, fino adesso, mi avete sentito solo parlare di certe cose, adesso le vedete. E quindi è un momento importante di collegamento. Soltanto questo volevo dirvi e ringrazio ulteriormente Marco Schioppa, sempre per la sua squisita gentilezza, perché senza di lui, molte delle cose che si fanno in questa scuola non sarebbero possibili. Quindi, questo lo devo dire, non devo spezzare una lancia per piageria, ecco, diciamo così, ma perché è la verità, ok? Vi ringrazio e diamo la parola alla professoressa Giannò. Grazie. Io voglio ringraziare voi intanto per essere qua. Mi fa molto piacere essere in questa scuola che è bellissima. In genere vado a parlare nelle scuole a Roma brutte, tristi. Sì, questa è proprio bella da tanti punti di vista. Avete il mare a due passi, anche questo non guasta. Allora, il mio compito oggi è di parlarvi di materia oscura. Già il fatto che si chiami materia oscura dovrebbe farvi capire molto, cioè è qualcosa di cui non sappiamo tanto. E ho voluto dare questo titolo a moderna quintessenza dell'universo perché voglio farvi un seminario un po' storico per farvi capire come in ambito scientifico in generale, in fisica in particolare, si affrontano i problemi nuovi. Quando c'è qualcosa che non si capisce, qual è l'approccio che si usa. E questa metodologia nasce da lontano, si chiama metodo scientifico. e non nasce oggi ed è stato, come dire, un successivo miglioramento e affinamento di questo metodo che in realtà noi lo facciamo risalire al mondo classico greco e romano. Già gli studiosi dell'epoca si ponevano di fronte all'universo, al mondo che li circondava e si chiedevano come era fatto e cercavano di spiegarlo. Credo che sia stato per primo a Empedocle a dire che il mondo circostante era fatto da quattro elementi, l'aria, l'acqua, il fuoco, la terra, a cui poi Aristotele ne aggiunse un quinto e di lì il termine poi quintessenza, perché gli sembrava che nessuno di questi elementi potesse spiegare le cose celesti. quindi il quinto elemento era superiore agli altri perché statico, imperturbabile, eterno, era l'essenza delle cose, delle cose celesti. Poi vabbè la scienza è andata avanti, si è capito che la natura era più complessa. Il guardare verso il cielo però è qualcosa che da sempre l'uomo fa e non so se conoscete questo oggetto, a me piace, da quando l'ho scoperto ne parlo sempre, si chiama il disco di Nebra ed è considerata dall'UNESCO la più antica rappresentazione della volta celeste. è un disco di bronzo che risale, è stato datato tra il 1600 e il 1800 avanti Cristo che è stato ritrovato appunto in Ebra, è un villaggio, una piccola cittadina nei pressi di Lipsia in Germania e rappresenta, vedete, il sole, la luna crescente, poi ci sono le pleiadi, ci sono, ah se tocca lo schermo va avanti, fighissimo, ci sono varie costellazioni e c'erano anche due placche, queste sono tutte applicazioni in oro, una purtroppo è scomparsa ma ne è rimasta l'impronta, messo in orizzontale, opportunamente orientato, davano l'alba e il tramonto, l'alba e il tramonto ai solstizi d'estate e d'inverno, quindi si pensa che fosse una sorta di strumento astronomico per indicare l'inizio dell'estate o dell'inverno. Insomma, dicevo, l'uomo ha cercato di farsi dei modelli del cosmo da sempre e in particolare il sistema cosmologico, il primo sistema cosmologico più completo è stato quello di Tolomeo, il sistema tolmaico, che peraltro era basato su delle ipotesi sbagliate, perché poneva la Terra al centro dell'universo, però è stato in voga per un sacco di secoli, fino al 1600, quando poi Galileo, Copernico, Newton hanno cambiato e ci hanno fatto capire che in realtà nel nostro sistema solare il centro in realtà è il Sole. Questo sistema però è rimasto in auge per vari motivi, non ultimo il fatto che ci permetteva di fare delle predizioni sulle posizioni dei pianeti, sull'eclissi, sul passaggio delle comete, abbastanza precise, avevano degli errori che non erano poi più grandi del 10% e poi forse, fatemi dire, che anche il fatto che venne sposato dalla Chiesa Cattolica ha fatto il resto. Facciamo un salto adesso dall'antica Grecia, vi porto all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento Maxwell scrive le equazioni che regolano l'elettromagnetismo, Hertz verifica sperimentalmente che le onde elettromagnetiche esistono, si capisce appunto che la radiazione elettromagnetica è un'appunto radiazione, una perturbazione ondosa, però per quelle che erano le conoscenze dell'epoca, tutte le perturbazioni ondose conosciute, non so, il suono, le onde elastiche, avevano bisogno per propagarsi di un mezzo che le sostenesse e quindi sembrava impossibile che le onde elettromagnetiche potessero propagarsi senza un mezzo e quindi si è rispolverata l'idea aristotelica dell'etere, si pensava che ci fosse questo elemento di nuovo eterno e inamovibile la cui unica funzione era quella di sostenere le onde elettromagnetiche e di farle propagare. Chiaramente questa era una teoria, in fisica funziona che la teoria per venire accettata deve essere verificata sperimentalmente e quindi è cominciato in giro per il mondo l'attività sperimentale per cercare di misurare la velocità della Terra rispetto all'etere. Probabilmente avete sentito parlare dell'esperimento di Michelson e Morley, questo spettrometro è un oggetto dove c'è una sorgente di luce, la luce viene fatta incidere su uno specchio semiriflettente e quindi viene separata e fatta camminare su due percorsi ortogonali e poi alla fine di questi due percorsi che sono lunghi e uguali ci sono degli specchi che riflettono indietro la luce e alla fine su questo rivelatore avremo la composizione delle onde elettromagnetiche riflesse e quindi delle figure di interferenza. Se la lunghezza dei bracci viene a variare perché la Terra si muove attraverso l'etere ci si aspettava di vedere su questo rivelatore variare queste figure di interferenza a seconda del moto relativo della Terra rispetto all'etere e invece qualunque fosse l'orientamento dello spettrometro nel periodo dell'anno non cambiava, la velocità della luce veniva sempre ad essere costante poi questo risultato sperimentale è quello che ha portato alla nascita della relatività ristretta prima e poi della relatività generale su cui basiamo quello che è il moderno modello cosmologico diciamo che dal modello tolemaico ci eravamo già liberati nel 600 grazie a Newton che aveva capito che la forza che tiene in orbita i pianeti nello spazio è la stessa che sperimentiamo sulla Terra, la forza di gravità e Newton scrive questa legge che regola l'interazione gravitazionale come appunto una forza che agisce a distanza tra due corpi dotati di massa la forza di gravità è data dal prodotto delle masse in gioco diviso per il quadrato della loro distanza e la costanza di proporzionalità ha preso proprio il nome da costante gravitazionale di Newton ed ha questo valore numerico nel 1915 quando Einstein pubblica il suo lavoro sulla relatività generale riscrive la relazione che regola la gravità con questa formula che è un pochino più complessa dove compare ancora la costante di gravità newtoniana ma vedete che compare anche la quarta potenza della velocità della luce questo perché la differenza sostanziale tra il modo di concepire la gravità di Newton e di Einstein sta proprio nel fatto di legare la materia, l'energia e lo spazio-tempo questa equazione ci dice come nell'universo lo spazio-tempo viene formato dalla materia quindi la gravità non è più vista come un'interazione a distanza tra due corpi ma una deformazione di questo chiamiamolo retico spazio-temporale già con la relatività stretta si era capito che spazio e tempo non sono disgiunte ma sono le diverse componenti di uno stesso quadrivettore che è il quadrivettore spazio-temporale dicevo come questo si deforma in presenza di una massa di un'energia questa equazione ha degli effetti sconvolgenti che ci hanno fatto veramente cambiare un sacco di nostre convinzioni intanto se la gravità è una deformazione dello spazio-tempo anche gli oggetti che non sono dotati di massa ne dovranno risentire nella gravità newtoniana invece solo i corpi con massa sentono l'effetto della forza di gravità con la relazione di Einstein anche la luce che è fatta da corpuscoli che non hanno massa i fotoni quando passano in zone dello spazio-tempo in cui è presente una grossa massa le traiettorie sono curvate e quindi noi vedremo delle immagini distorte e questo è quello che si osserva abbastanza comunemente anche con telescopi come questi che sono esposti qui quando voi guardate un oggetto lontano e sulla luce che proviene da questo pianeta da questa stella passa in prossimità di altri corpi celesti vediamo appunto delle delle immagini che sono addirittura a volte sdoppiate veramente hanno delle forme strane pensate questo ad esempio è il caso di una galassia che si trova siamo in questa situazione quella che si chiama dell'anello di Einstein cioè noi osservatore e oggetto che stiamo osservando e abbiamo sulla traiettoria della luce un corpo celeste molto grande e siamo perfettamente allineati allora in questo caso vedete la riflessione della luce fa sì che si formi questo questo anello e questi anelli a volte hanno delle forme anche un po' un po' curiose guardate questo viene chiamato lo stregato questa è un'immagine del del telescopio Hubble queste due luminose galassie sembrano gli occhietti e qui la bocca di quello che è il gatto del Cheshire della favola di Alice ma torniamo alla cosmologia e alle conseguenze della relatività einsteiniana la cosmologia moderna vi dicevo nasce appunto con l'enunciazione di questa nuova concezione della gravità nel 1915 Einstein pubblica la teoria della relatività generale Lemaitre e Friedman risolvono per la prima volta le equazioni di Einstein e si accorgono di un'altra cosa sconvolgente e cioè che l'universo così come era descritto da queste equazioni doveva espandersi Einstein non accettò questa soluzione e fu Lemaitre che tra l'altro trovo un po' ironico che fosse pure un prete gli spiegò che assolutamente Einstein aveva inserito una costante che si chiama la costante cosmologica nella sua equazione perché da uomo del novecento lui pensava che l'universo fosse qualcosa di statico e quindi per far sì che l'universo fosse statico aveva inserito questo parametro Lemaitre disse no guarda il parametro serve ma non per come pensi tu perché l'universo è statico perché l'universo si espande e oggi sappiamo anche che la velocità con cui l'universo si espande sta crescendo e quindi questa costante tiene conto di questo la definitiva accettazione di questo fenomeno avvenne negli anni 30 quando si cominciò in particolare Hubble Edwin Hubble era un astronomo che andò a studiare più di mille galassie e andò a misurare le velocità con cui queste galassie si muovevano e si accorse che appunto più ci si allontanava più erano lontane da noi e più la loro velocità era grande e proprio stabilì una relazione lineare tra la distanza della galassia e la velocità di allontanamento oggi la costante di proporzionalità prende il nome appunto di costante di Hubble e per fare queste misure utilizzò l'effetto Doppler lo spostamento verso il rosso di alcune frequenze di transizioni all'interno di atomi che sono noti e vedete appunto che immagino conosciate l'effetto Doppler se non lo conoscete in due parole è la variazione della frequenza con cui una radiazione viene percepita da un osservatore quando la sorgente si muove rispetto all'osservatore se la sorgente si allontana verrà misurata una frequenza più bassa quindi spostata verso il rosso se invece la sorgente si avvicina avremo una frequenza più alta quindi spostata verso il blu vediamo adesso come tutte queste teorie e osservazioni sperimentali ci hanno portato poi a definire quello che è il modello dell'universo oggi sappiamo che appunto se l'universo si sta espandendo è logico pensare che all'inizio fosse molto più denso e concentrato in un punto e sappiamo che appunto l'universo ha avuto origine con una singolarità si chiama che è rappresentato dal Big Bang ha preso questo nome l'emettere che è stato il primo a parlare in realtà parlava di atomo primordiale che poi si è espanso e questo evento è avvenuto quasi 14 miliardi di anni fa all'inizio l'universo era molto denso e molto caldo e le quattro forze che noi conosciamo gravitazionale, elettromagnetica interazione nucleare forte e debole dovevano avere la stessa intensità poi la gravità è stata la prima delle quattro forze a separarsi a dare origine allo spazio-tempo e quindi l'universo ha cominciato a espandersi in questo reticolo e inizia quella che chiamiamo l'era dell'inflazione poi il campo di Higgs avrete sentito parlare del bosone di Higgs perché tra l'altro Marco è tra quelli grazie a cui possiamo oggi dire che il campo di Higgs è una realtà perché nel 2012 al CERN gli esperimenti all'LHC hanno visto il bosone di Higgs hanno potuto quindi mettere l'ultimo pezzo mancante nel puzzle del modello standard dicevo questo campo comincia a dare origine alle coppie particelle-antiparticelle si formano i quark e di lì poi abbiamo la formazione della materia ad un tempo pari a circa 350 mila anni dopo il Big Bang la materia rallenta non si muove più alla velocità della luce e da quel momento appunto la luce che continua a viaggiare più veloce ci permette arrivando fino a noi di vedere le cose utilizzando la radiazione elettromagnetica vi ho messo qui un'altra immagine del telescopio Hubble dove ci sono vedete tutti questi puntini sono galassie e vedete che le galassie risultano essere più luminose verso il centro e poi la luminosità va un po' diminuendo quindi questo ci fa pensare che la maggioranza delle stelle che compongono queste galassie sia concentrata nel centro e quindi utilizzando banalmente la gravità newtoniana possiamo ricavare la velocità con cui i corpi celesti all'interno di una galassia si trovano e la velocità sarà inversamente proporzionale alla radice quadrata della distanza dal centro della galassia negli anni 30 del secolo scorso un altro astronomo Fritz Zwicky che era di origine svizzera però ha quasi sempre lavorato per tutta la sua vita negli Stati Uniti lavorava a Caltech non so se come me vedete la serie The Big Bang Theory che è ambientata proprio nel laboratorio di Caltech i protagonisti di questa serie sono in qualche modo soprattutto contrappali e secondo me un'erede di Zwicky 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 si era proposto di determinare quanta materia ci fosse in un certo ammasso di galassie che si chiamava il coma cluster e allora fa due misure indipendenti da un lato come vi facevo notare prima guardando la luminosità e ci sono dei metodi astronomici sulla base del colore della luce che proviene a noi per capire quanta e quale materia ci sia nelle stelle quindi basandosi sulla luminosità fa prima una stima della massa presente in questi in questi sistemi celesti e poi fa una una stima indipendente basandosi sulla relazione che vi facevo vedere prima cioè dalla velocità con cui i corpi celesti si muovono in questi ammassi determina la quantità di materia e queste due stime avevano una differenza di quattrocento volte cioè ci doveva essere quattrocento volte più materia di quella che si che si osservava visivamente e quindi ne concluse lui era di madrelingua tedesca che dovesse esistere della dunkel materia cioè della materia oscura per spiegare la discrepanza tra i due risultati però la cosa non venne presa sul serio più di tanto anche perché i metodi utilizzati da da Zwick erano ancora abbastanza un po' rozzi fino a quando negli anni settanta con l'avvento dei radiotelescopi si rese possibile fare l'effettiva misura della velocità di rotazione dei corpi celesti in funzione dalla distanza dal centro della di una galassia e questa finalmente una donna Vera Rubin misurò nella galassia più vicino a noi che è Andromeda la velocità con cui le stelle si muovono e vedete che ottenne quella distribuzione che vi faccio vedere meglio qua questa è proprio una foto di Andromeda vedete che qui la densità di materia è maggiore e poi va diminuendo quindi ci si aspetta che i corpi celesti che si trovano in questa zona dovrebbero avere una velocità di rotazione intorno al centro galassi che va scendendo e invece sperimentalmente si vede che la velocità è costante come se nella periferia intorno alla galassia ci fosse un alone di qualcosa che non emette né assorbe radiazione elettromagnetica però ha degli effetti gravitazionali tant'è che fa rallentare i corpi che si muovono i celesti vi parlavo vi ricordate dell'effetto lente che la luce subisce quando si muove nello spazio tempo che è curvato dalla dalla materia beh questo effetto lente si vede anche in regioni dello spazio dove apparentemente materia non ce n'è e vi faccio vedere quello che si è misurato sempre dal Hubble Telescope con quello che si chiama il bullet cluster stiamo guardando questi due ammassi di galassie e questa è un'immagine presa da Hubble nel visibile vedete che ci sono colori diversi perché a seconda della velocità gli oggetti si allontanano si avvicinano e quindi ci danno il famoso red blue shift allora questa è un'immagine visibile questa è un'immagine della stessa porzione di cielo fatta con i raggi X vedete che non c'è più luce visibile questo è chiaramente in falsi colori perché i raggi X appunto non impressionano e vedete che si vede che ci sono delle zone più calde dove il gas intergalattico si è scaldato e tra l'altro dovuto appunto a un'interazione gravitazionale che non corrisponde a della della materia per riprodurre questa distribuzione dobbiamo ammettere che intorno ai nostri cluster di galassie ci sia questi aloni questa area bluastra rappresenta la materia oscura che ci deve essere all'interno di questi eh ammassi di di galassie per riprodurre appunto quel fenomeno che vi dicevo nei nei raggi X e questa è l'immagine completa sovrapponendo quello che eh e nel visibile anche nei raggi X quindi la materia oscura se voi andate a cercare sul su internet vi viene fuori di tutto da una lacca per capelli a uno smalto per unghie filo da pesca è qualcosa che non solo ehm così attrae eh la curiosità di di noi ricercatori ma è molto suggestiva tra l'altro se vi fidate di questi che che fanno questa maschera loro vi dicono anche di cosa è fatta ops è fatta di scritto qui argilla tè verde e carbone quindi quando l'ho scoperto ho detto ma che sto a fare perché sto a studiare la materia oscura basta sappiamo già di cosa è fatta comunque scherzi a parte cerchiamo adesso vi do così un po' di informazioni su tutto ciò che sappiamo sulla materia oscura che ahimè non è tanto sappiamo di più cosa non è la materia oscura rispetto a cosa è sappiamo che è scura cioè non interagisce con la forza elettromagnetica non né emette né assorbe radiazione elettromagnetica non si tratta di materia ordinaria non si tratta neanche di antimateria una delle domande che mi fanno spesso è proprio questa dice ma non potrebbe essere l'antimateria no ahimè no perché l'antimateria è dotata di carica elettrica ha interazione elettromagnetica quindi non può essere un buon candidato non si tratta di buchi neri c'è stato soprattutto all'inizio qualcuno che ha pensato che i buchi neri potessero essere sorgente di materia oscura ma avete visto che la materia oscura è qualcosa di di diffuso questo ad esempio è una rappresentazione della nostra galassia la via lattea no questa è la via lattea questo puntino azzurro nel nostro sistema solare noi intorno alla alla via lattea fate conto che il raggio della via lattea è circa 15 chiloparsec è un chiloparsec sono circa 2 punto 3 anni luce ci aspettiamo un alone di materia oscura di 50 chiloparsec quindi molto più grande di quello che è la materia visibile e non si tratta neanche di di neutrini neutrini per un periodo si era ipotizzato potessero spiegare la materia oscura ma non ce ne sono abbastanza non hanno le caratteristiche necessarie oggi studiando l'universo abbiamo capito che la materia di cui siamo fatti tutti noi cioè protoni neutroni ed elettroni rappresenta solo un misero 5 per cento di quello che c'è nell'universo che è veramente molto poco la materia oscura costituisce un altro 26.8 il numero il numero più preciso ultimamente prodotto e di nuovo non completiamo per arrivare a al cento per cento dobbiamo ipotizzare che ci sia un'entità ancora più elusiva della materia oscura che si chiama energia oscura che sappiamo che c'è perché come vi accennavo quando vi parlavo della relatività generale perché l'universo non solo si espande ma la velocità con cui l'universo si sta espandendo sta aumentando e lo studiate in fisica f uguale m per a se c'è un'accelerazione vuol dire che c'è una forza quindi se c'è una forza vuol dire che c'è dell'energia ecco perché chiamiamo energia oscura questa entità che sta facendo aumentare la velocità con cui il nostro universo si espande ma ahimè non sappiamo ancora cos'è torniamo alla materia oscura e all'ultima prova assolutamente che ci ha convinto della della sua esistenza vi dicevo che circa trecentocinquanta mila anni dopo il big bang la materia e la radiazione elettromagnetica si sono separate cioè la luce è continuato a viaggiare alla velocità di c trecentomila chilometri al secondo mentre la materia è rallentata e viaggiando abbiamo imparato la la frequenza della radiazione va diminuendosi sposta via via sempre più verso il rosso tant'è che oggi questa la temperatura che poi corrisponde all'energia di questa radiazione la misuriamo con una precisione altissima avrete sentito dire che la temperatura dell'universo è due virgola sette gradi kelvin questo è perché noi abbiamo misurato con precisione la frequenza di questa radiazione che è il residuo del big bang e questa che vedete qui è proprio una mappa del nostro universo fatta misurando questa radiazione cosmica di fondo siamo nelle microonde oggigiorno e all'inizio con le prime misure fatte qua sulla terra sembrava un disturbo questa questa radiazione una radiazione in microonde che nei radiotelescopi prima di capire che era la radiazione del big bang ci ha voluto un bel po' sembrava un disturbo ineliminabile di cui non si capiva la natura oggi si misurano anche le disuniformità rispetto a questo valore medio che vi dicevo prima e questi punti rossi e punti blu rappresentano proprio le fluttuazioni su questo valore medio di due punto sette che sono variazioni piccolissime di millesimo di grado di grado Kelvin che per spiegare appunto queste disuniformità l'unico modo è quello di introdurre appunto la materia oscura e in base alla distribuzione della materia oscura proprio da queste osservazioni abbiamo potuto determinare quel famoso venticinque ventisette per cento che oggi sappiamo costituire il nostro universo quindi abbiamo capito che la materia oscura c'è deve esistere è anche una componente molto importante di ciò che costituisce l'universo come come ci avviciniamo come ci approcciamo già almeno abbiamo avuto come dire il buon gusto di non ritirare in ballo l'etere non l'abbiamo più chiamata etere l'abbiamo chiamata materia oscura ma l'approccio è di nuovo quello facciamo delle ipotesi facciamo dei modelli e cerchiamo poi di fare degli esperimenti che ci permettano di verificare se queste ipotesi hanno senso oppure no e quali sono le ipotesi migliori beh diciamo che sono quelle che magari riescono a spiegare non solo la materia oscura ma anche altre altre cose che ancora non sono chiare ad esempio un problema che ci rimane e che non abbiamo ancora capito bene perché è così è perché il nostro universo in quel 5% di materia sia quasi scomparsa l'antimateria di nuovo nel Big Bang si deve essere prodotto un'uguale quantità di materia e di antimateria che fino a fatto l'antimateria abbiamo delle idee abbiamo delle ipotesi se un modello fosse in grado di spiegare sia la materia oscura sia questa simmetria potrebbe essere un buon modello e poi ci sono qui elencati quelle che sono alcune dei problemi aperti della fisica moderna diciamo non voglio entrare nei dettagli perché sono cose magari un po' al di là delle vostre delle vostre conoscenze vediamo sono quindi le diverse ipotesi che si fanno nei modelli sulla materia oscura intanto ci sono c'è chi pensa che si tratti di particelle di alte energie quindi si parla di hot dark matter mentre c'è chi invece pensa che siano particelle molto lente quindi cold dark matter fatemi dire che la teoria più accreditata è quella che pensa che la materia oscura sia fatta da una nuova classe di particelle che si chiamano WIMP cioè weekly interactive massive particle cioè particelle pesanti dotate di una certa massa e che interagiscano debolmente queste particelle devono possedere un'interazione gravitazionale ed eventualmente una debolissima capacità di interagire con la materia ordinaria devono essere state prodotte nel Big Bang e quindi permeare tutto l'universo e questa teoria vi dicevo è quella una di quelle più accreditate anche perché è prevista da una serie di modelli che si chiamano di supersimmetria di nuovo sono modelli che si stanno cercando indizi sulla loro validità proprio utilizzando l'acceleratore LHC del CERN poi abbiamo un'altra classe di modelli che invece pensa che le particelle di materia scura siano fatte da azioni le azioni al contrario delle WIMP sono particelle molto leggere e lente e che interagiscono vabbè come le WIMP debolmente con la materia ordinaria per le azioni spiegherebbero l'assenza di violazione di CP della interazione forte che è uno dei problemi a po' aerti che vi accennavo prima e per rivelarle dovremmo poterle convertire in coppie di fotoni cioè in radiazione elettromagnetica dei macio non vi parlerei perché sono teorie un po' vecchie che sono stati i primi candidati di materia scura proposti cioè si pensava che potessero essere oggetti cosmici come stelle di neutrone nane bianche insomma corpi celesti veri e propri che non venivano visti ma che potevano dare il computo complessivo della materia oscura come vi ho fatto vedere dal studio della radiazione cosmica di fondo diciamo questo tipo di approccio è stato abbastanza passato veniamo adesso a come si fanno gli esperimenti per cercare di vedere la materia oscura abbiamo diverse classi di esperimenti c'è chi cerca di fare delle misure dirette cercando di intercettare queste particelle dell'alone cosmico in un rivelatore c'è chi cerca come me di produrle in acceleratore di particelle perché se la materia oscura si è prodotta nell'ubbank non c'è motivo che noi quando facciamo collidere le particelle elementari nei nostri acceleratori non si debbano produrre anche particelle di materia oscura il primo esperimento di cui vi voglio parlare è questo AMS in particolare AMS2 che sta sulla stazione spaziale internazionale l'obiettivo principale di AMS è fare studi dei raggi cosmici un po' come l'esperimento che avete voi qui in istituto e studia il flusso di raggi cosmici qui sulla terra AMS non è molto diverso è un po' più sofisticato ha un po' più di elementi ma fa la stessa cosa al di fuori dell'atmosfera e quindi può fare delle misure non filtrate appunto dalla nostra atmosfera e devo dire che AMS ha fatto un ottimo lavoro sta verificando con altissima precisione tutti i modelli sui raggi cosmici l'unica cosa che non torna tanto è il flusso di positroni cosa sono i positroni i positroni sono le antiparticelle degli elettroni il flusso di positroni misurato da AMS e non solo vedete in questo grafico ci sono i dati non solo di AMS ma di altri esperimenti fatti anche sulla terra mostra una discrepanza rispetto a quello che ci aspetta ci si aspetta dai modelli teorici e quindi questo ci ha fatto alzare un po' le antenne ci ha fatto pensare che potrebbe essere che la materia oscura abbia un accoppiamento privilegiato con i positroni e tenetelo a mente perché questo vi farà capire anche perché facciamo certe cose affrascati poi la seconda classe di esperimenti sono quelli che invece vogliono vedere un'interazione della materia oscura qui da noi la terra le famose WIMP queste weekly interactive massive particle si spera che possano interagire con dei nuclei di materiali pesanti e fare una specie di effetto biliardo la particella di materia oscura urta il nucleo dell'atomo di xenon questo rincula quindi assorbe energia e noi in qualche modo siamo in grado di misurare questa energia e su questo grafico vi ho messo quelli che sono gli esperimenti fin qui ora condotti che hanno su questo asse c'è la probabilità di interazione della materia oscura vedete che stiamo andando sempre sempre più in basso fino quasi a toccare questa gialla che rappresenta probabilità di interazione dei neutrini cioè se la materia oscura ha una probabilità di interazione più bassa al punto non sapremo distinguerla dai neutrini e vi faccio vedere quello che è uno degli esperimenti in questo momento più attivi che è l'esperimento xenon che in realtà l'esperimento vero e proprio è questo che è una sorta di piscina un enorme contenitore di xenon liquido sono appunto 100 tonnellate e perché servono dei rivelatori così grossi perché appunto la capacità di interazione della materia oscura è bassissima la probabilità di interazione è molto bassa devo usare materiali pesanti ed averne grandi grandi quantità e infatti nel grafico che guardavamo prima i dati di xenon sono proprio quelli che arrivano non sono proprio più precisi xenon 100 sta qua se una tonnellata sta qui sono quasi i più precisi mai raggiunti e questo è un esperimento che facciamo noi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare insieme anche a colleghi stranieri al Gran Sasso in realtà un esperimento del Gran Sasso che sostiene di aver visto un segnale di materia oscura c'è ed è questo esperimento che si chiama DAMA l'esperimento DAMA utilizza non l'oxenon liquido ma utilizza dei cristalli di ioduro di sodio ne ha 100 chili in realtà sono cinque sono singoli cristalli da un chilo l'uno quindi sono 100 cristalli e questo esperimento è collocato al Gran Sasso dal 2002 e vedete che vede un segnale che ha una modulazione che potrebbe indicare il fatto che la nostra terra che si muove in questa orbita intorno al sole interagisce in modo diverso a seconda della stagione dell'anno con questo clone di materia oscura che c'è nella nostra via Lattea il problema è che il risultato di DAMA vedete sta qua e questa questa zona qua risiede per diciamo richiede una probabilità di interazione della materia oscura in un'area che praticamente è stata esclusa da tutti gli altri esperimenti DAMA è l'unico esperimento a vedere un segnale per queste probabilità di interazione della materia oscura e fatemi dire non lo vede neanche in tutti i cento i cristalli sono solo alcuni e quindi diciamo la comunità non è non è convinta passiamo agli azioni come si rivelano gli azioni vi dicevo gli azioni si pensa che possano per effetto di un forte campo magnetico essere convertiti in fotoni cioè particelle di radiazione elettromagnetica e anche i nostri laboratori di frascati stiamo costruendo un rivelatore di azioni utilizzando il magnete di un esperimento che ha concluso la sua attività stiamo costruendo una cavità risonante da mettere all'interno del campo magnetico e partecipare anche noi quindi alla rivelazione di azioni dobbiamo rivelare fotoni che stanno nel range delle microonde e infine fatemi arrivare a quello che faccio personalmente tra i modelli visto che i modelli di WIMP i modelli di azioni finora non hanno dato esito positivo la ricerca di queste particelle non ci ha fatto ancora scoprire nulla abbiamo cominciato a dire ma se la materia oscura esistesse in un mondo tutto a parte che interagisce con la materia ordinaria solo attraverso la gravità e se magari ci fosse una nuova forza che noi ancora non conosciamo che fa da ponte fra questi due mondi e abbiamo chiamato il mediatore tra questi due mondi fotone oscuro cioè perché una particella che pensiamo abbia le stesse caratteristiche di quelle del fotone del campo elettromagnetico ma essere dotato di massa e questo dovrebbe essere l'unica particella in grado di interagire sia con quelle del modello del mondo visibile che con quelle del mondo oscuro e in giro per il mondo ci sono un sacco di esperimenti che vogliono verificare quest'ipotesi un'altra cosa strana che è venuta fuori in Ungheria nel 2016 un gruppo di fisici nucleari si è messo a studiare degli stati eccitati in particolare hanno iniziato con il beriglio 8 il beriglio 8 eccitato normalmente dovrebbe decadere attraverso le emissioni di raggi gas ma loro andavano a studiare delle interazioni delle forme di diseccitazioni un po' particolari in cui si ha le emissioni di un positrone un'antiparticella dell'elettrone e un elettrone vi ricordate che vi ho detto che AMS ha visto delle cose strane studiando i flussi dei positroni beh anche loro hanno visto delle cose strane si aspettavano che l'angolo di apertura tra queste due particelle andasse secondo questa linea no scusate questa linea decrescente questa linea continua e invece vedete che i punti sperimentali ops ci hanno fatto vedere che c'è qualcosa che devia da quanto ci aspettiamo molto piccolo ma è come se il decadimento avvenisse attraverso l'emissione appunto di una particella che non vediamo un fotone oscuro poi decade in elettrone e positrone e la massa di questa particella dovrebbe essere 17 mev 17 unità è scattato in tutto il mondo la caccia al fotone oscuro vedete ci sono esperimenti fatti negli Stati Uniti questi sono tutti gli esperimenti fatti in Europa in Giappone tra questi ci siamo anche noi Padme alla BTF che è l'esperimento su cui sto lavorando da qualche da qualche anno questa è una visione aerea dei nostri laboratori il cuore dei laboratori è questo edificio qua con con questa cupola che è dove avvengono le collisioni con i prositroni questo è il complesso di acceleratori di Daphne in realtà le particelle vengono prodotte nell'acceleratore lineare e poi fatte collidere all'interno del dell'anello i fasci di particelle possono anche essere deviati in quest'area che chiamiamo BTF cioè BIM Test Facility che è dove effettivamente sto lavorando io da qualche anno l'esperimento Padme Padme è l'acronimo di Positron Annihilation into Dark Matter Experiment non vi nascondo che abbiamo scelto prima il nome e poi ci siamo inventati come dire una giustificazione questo perché all'interno dell'esperimento siamo tutti abbastanza fan della saga di Star War e siccome c'è gente anzianotta come me e gente più giovane la saga di Star War veramente prende prende tutti e abbiamo scelto un personaggio della saga che fosse a metà tra gli ultimi capitoli e quelli più più antichi che piacciono di più a me l'ipotesi di questo esperimento è proprio testare quest'ipotesi sulla materia oscura che sia confinata in un mondo in un mondo parallelo e che l'unico contatto col nostro avvenga con questa particella nuova questa nuova forza che è mediata da una particella e chissà magari questo fotone oscuro potrebbe anche spiegare l'anomalo flusso di raggi cosmici di positroni che si vede su AMS e magari anche spiegare la anomalia nei decadimenti nucleari visto in Ungheria questa è una vista in pianta della nostra area sperimentale qui abbiamo la linea del fascio ci sono una serie di magneti che guidano i positroni a interagire in questo punto dove abbiamo un bersaglio che è un diamante policristallino di spessore solo 100 micrometri mi ricordo che è un micron un micrometro e 10 alla meno 6 metri quindi un milionesimo di metro in realtà noi quello che vogliamo fare è fare interagire i positroni con gli elettroni dell'atomo di carbonio normalmente quando un elettrone e un positrone si incontrano si annichilano diciamo noi cioè si annullano e si forma una non so un blob di energia che poi converte e la l'interazione più probabile è la produzione di due fotoni ordinari due fotoni standard che indichiamo con questa lettera greca gamma noi speriamo di produrre un fotone standard e un fotone oscuro e quindi dalla mancanza di energia noi in realtà il fotone oscuro non lo vediamo non dà un segnale nel nostro rivelatore noi misuriamo il fotone standard ma facendo il bilanciamento energetico ci manca dell'energia e se l'energia corrisponde la formula di einstein è uguale mc quadro se l'energia corrisponde a una particella in cante vedremo un picco in corrispondenza della massa della particella ci proponiamo anche di studiare l'esistenza di questa particella di g17 mev tant'è che abbiamo fatto una presa dati dedicata cambiando l'energia del fascio in modo da produrla proprio in modo risonante si dice cioè abbiamo scelto l'energia dei positroni in modo che sempre in base alla formula di einstein si ecciti se esiste questa particella 17 mev abbiamo fatto una lunga acquisizione dati l'anno scorso che è finita poco prima di natale e adesso stiamo analizzando i dati questa è una una foto del dell'apparato questo è un grosso un grosso magnete che serve a deviare le particelle che non hanno interagito e a permetterci di misurare l'impulso di quello che viene prodotto nell'interazione e qui vi faccio vedere un po' più in dettaglio tutte tutte le componenti questa volta il fascio arriva da questo lato questo è lo spot del fascio che è di pochi di pochi millimetri questa è l'immagine che noi vediamo anche sul nostro bersaglio di carbonio che vedete è scuro perché pur essendo un diamante con una tecnica laser sono state realizzate delle striscioline che poi sono state connesse a dei canali di elettronica e quindi le striscioline sono fatte su una faccia lungo una direzione non solo direzione X e sull'altra faccia sulla direzione ortogonale e quindi vedete siamo in grado di ricostruire con alta precisione il punto in cui il fascio interagisce entrando all'interno del magnete abbiamo messo degli rivelatori scintillatori che sono sembrano dei pezzi pezzi di plexiglass e ne abbiamo messi tutta una serie perché all'interno del campo magnetico le particelle curvano vanno a colpire queste queste sbarrette ci permettono appunto di vedere le traiettorie e i punti di interazione delle particelle e poi abbiamo il cuore del nostro rivelatore che è questo qui che è fatto da cristalli di un materiale che si chiama BGO e che serve per misurare i fotoni vi dicevo noi vogliamo vedere la produzione di fotoni ordinari e in coincidenza di un fotone oscuro è tutto segmentato è fatto da tanti blocchetti e quindi ci dà un'immagine vedete un po' a pixel poi ne abbiamo dietro uno più piccolino per fare calorimetria per chiudere l'angolo e fare da monitor più preciso dicevo questo apparato è stato costruito nel nel 2000 fine 2018 è iniziato la sua acquisizione dati già nel 2019 2020 abbiamo già pubblicato alcuni risultati abbiamo in particolare misurato con la precisione mai raggiunta la probabilità appunto di interazione elettrone positrone che produce due fotoni questo perché perché quando voi vi ponete sul mercato pretendendo di fare delle misure di qualcosa che nessuno ha mai misurato prima prima vi dovete in qualche modo accreditare dimostrando le vostre capacità di misurare qualcosa che già altri hanno misurato e quindi noi abbiamo fatto vedere che siamo in grado di misurare con una precisione appunto la migliore mai raggiunta la produzione di fotoni standard e adesso quindi ci stiamo accingendo speriamo entro l'anno a produrre un probabilmente solo un limite vi anticipo che non abbiamo visto segnali di materia oscura e quindi quello che pubblicheremo è qualcosa che dice che la probabilità di produzione di materia oscura nel nostro apparato ha un certo valore perché noi sappiamo esattamente quanti positroni abbiamo fatto interagire nel nostro apparato e quindi siamo in grado di dire che la probabilità di produzione di fotoni oscure da positrone è al di sotto di questa probabilità di interazione quindi concludendo da quando tolomeo decretava la terra al centro dell'universo la nostra conoscenza del cosmo è cambiata parecchio non solo oggi sappiamo che la terra non è il centro dell'universo ma che noi siamo su una galassia che sta alla periferia del cosmo il sistema solare non è niente di eccezionale quasi tutti i giorni si sente parlare di pianeti nuovi scoperti simili alla terra sappiamo anche che la materia di cui siamo fatti non è niente di speciale è qualcosa di minoritario a livello a livello cosmico la materia la forma dominante di materia dell'universo l'abbiamo battezzata materia oscura e cosa sia anzi probabilmente io non vedrò la fine di 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 questo giallo invito voi che siete giovani a dedicarvi a queste attività perché ci servono buone idee ci servono veramente ricercatori che vogliano che vogliono affrontare questa sfida diciamo che l'idea di un mondo parallelo costituito di materia oscura è senz'altro qualcosa di affascinante ci sono alcune evidenze sperimentali che ci fanno pensare che queste ipotesi sia credibile chissà se riusciremo a dimostrarla credo che sentirete parlare parlare di noi vi ringrazio per l'attenzione ringraziamo la professoressa Gianotti per la bellissima relazione sulla materia oscura che come dire ci ha aperto un attimino le menti per la verità io stesso ho appreso delle cose nuove insomma in queste condizioni se ci fosse qualche domanda da parte vostra ne saremmo felici e grati nel frattempo apro io magari le danze se mi posso permettere cioè faccio io una richiesta che è più una curiosità da questo punto di vista io ho sentito parlare adesso di una quinta forza questa quinta forza dovrebbe come dire agganciarsi alle quattro precedenti forza gravitazionale l'elettromagnetica nucleare debole nucleare forte in termini di intensità cosa vi aspettate cioè come andarla a collocare eventualmente questa quinta forza è un'interazione molto molto più debole di quelle che conosciamo e parliamo rispetto all'interazione diciamo debole che è già debole di un milionesimo rispetto a quanto è intensa l'interazione debole quindi 10 alla meno 6 volte meno intensa dell'interazione debole diciamo che noi arriviamo a testare fino a questo livello per poter scendere se non vedremo niente come purtroppo temo porremo questo come limite inferiore all'interazione vuol dire che l'interazione se esiste è ancora più debole di quanto i modelli però ci fanno pensare e se l'interazione è mediata da questa particella vi dicevo di 17 MEV che gli ungheresi sostengono di aver visto siamo a quel livello lì quindi diciamo qualche indicazione sul fatto che potrebbe esserci c'è di nuovo è un solo esperimento molto difficile da farsi in giro per il mondo tutti hanno detto che ci vuole partiamo lo facciamo anche noi ma finora non abbiamo ancora visto un risultato indipendente ottenuto da nessun altro e quindi dobbiamo dobbiamo aspettare purtroppo la scienza non precede velocissima non veloce quanto vorremmo pensate che tra quando Einstein ha scritto l'equazione della relatività generale a quando è stata osservata la prima onda gravitazionale perché tra l'altro un'altra cosa che oggi non vi ho detto ma in quell'equazione è prevista che anche la gravità produca delle onde c'è passato cento anni perché la prima onda gravitazionale è stata vista proprio nel nel 2015 e quindi dopo cento anni si è vista la prima onda gravitazionale quindi a volte la tecnologia non è ancora pronta per le idee che vi vengono in mente e quindi per riuscire a testarle dovete aspettare che o voi stessi lavorare perché gli strumenti diventino tali da permettergli di fare delle misure precise tra l'altro se non erro mi pare che le onde gravitazionali siano state come dire rivelate attraverso un interferometro che ricalca un attimo l'idea di Michael Morley sostanzialmente l'idea è un oggetto molto più sofisticato perché la luce deve viaggiare nel vuoto gli specchi devono essere resi assolutamente insensibili a qualunque vibrazione quindi sospesi nel vuoto proprio Pia Astone sabato scorso avevamo i laboratori aperti ci ha fatto una lezione bellissima in cui ci ha raccontato gli esperimenti in corso sulla rivelazione di onde gravitazionali sono veramente affascinanti e adesso c'è un progetto l'Italia si candida a ospitare quello che dovrebbe essere l'evoluzione di questi interferometri con un nuovo laboratorio dedicato in Sardegna che è stata scelta perché dal punto di vista geologico è molto stabile ci sono molti pochi diciamo ci sono meno effetti sismici e quindi in qualche modo aiuterebbe poi è un'area dove c'è poca popolazione è un'ex miniera quindi insomma dal punto di vista dell'opportunità sarebbe l'ideale fare un rivelatore e un laboratorio del genere in Sardegna ha degli altri problemi più di carattere sociale e sociologico quindi non è detto che ci si riuscirà però sarebbe veramente una bella cosa che magari potrebbe impegnare qualcuno di voi che decidesse di studiare fisica nei prossimi anni anche perché ci vorrà qualche anno prima che parta certamente speriamo magari con molti dei presenti di poterci come dire incontrare magari anche il prossimo anno dalle parti di Frascate dei laboratori di Frascate se volete organizzare una gita noi saremo solo che contenti di accogliervi e lo facciamo abbastanza regolarmente quindi magari con l'occasione potete combinare il Gran Sasso con Frascati non sono così così lontani noi avremmo intenzione di fare Frascati e Ginevra il CERN quindi allora prima venite a Frascati perché se prima andate a Ginevra poi tutto quello che vedete da noi sembra come dire un po' piccolo per cui un po' remando per la mia barca direi prima venite a Frascati così riusciamo ancora a colpirvi poi il CERN per carità è unico non è un caso che il CERN sia un laboratorio dove collaborano scienziati di tutto il mondo perché per complessità e per anche necessità economiche non sarebbe proponibile averne più di uno certamente bene se ci sono delle domande prego innanzitutto sono Mattia Canino già unire le quattro forze esistenti è una una difficoltà è un sogno dei fisici esatto ma supponendo l'esistenza di una quinta forza il lavoro sarebbe più difficile o più facile? ma in realtà non saprei dirtelo onestamente se capiamo che le forze in origine erano un tutt'uno e riusciamo a dimostrarlo aggiungerne una quinta tutto sommato non mi sembrerebbe più complicato devo dire i fisici teorici sono molto bravi a farsi venire delle idee diciamo in genere ci anticipano sempre noi stiamo rincorrendo e cercando di verificare quello che loro hanno teorizzato magari molto tempo prima e l'esistenza di una quinta e anche di una sesta e di una settima forza è qualcosa che già molti modelli teorici prevedono quindi non credo che complicherebbe più di tanto ecco da remoto che magari so se c'è qualcuno collegato che vuole fare delle domande domande no io però vorrei veramente ringraziare Paola per questa bellissima lezione e quindi davvero grazie per la chiarezza è stata molto bella interessante anche diciamo per noi che comunque insomma mi sembra che colleghi che collegati siamo tutti comunque ricercatori e magari di altri settori ed è stato molto interessante sicuramente anche per noi e grazie per aver citato le onde gravitazionali ovviamente bene allora a questo punto possiamo chiuderla qui e prego volevo ringraziare tutti i ragazzi che ribadisco è sempre un piacere parlare con loro e sperare di in qualche modo averli un po' incuriositi un domani se non volete studiare fisica vi lascio anche studiare qualunque qualche materia scientifica però rimanete in ambito scientifico perché personalmente penso ci sia veramente molto bisogno di competenze scientifiche a tutti i livelli viviamo in un mondo molto tecnologico non abbiamo ormai tutti in tasca un computer però quasi non sappiamo come funziona allora per non cadere preda di credulonerie di gente che ci può dare a bere cose che non sono reali credo che una maggiore cultura scientifica sia necessaria di attrescenza grazie